Voglio tornare a casa, perché ci sono due bambini che mi aspettano. Grazie. Un'assemblea molto sentita, quella organizzata a Brescia dalla Will, un'occasione per chi sta tutti i giorni sul lavoro per raccontare quanto sia difficile tutelare la sicurezza in un luogo dove i ritmi e il profitto la fanno da padroni e i lavoratori rischiano ogni giorno. L'obiettivo era quello di stimolare, sensibilizzare, ma soprattutto far sì che gli RLS non sono da soli, cioè dietro hanno un'organizzazione, un'organizzazione che risponde per loro ed è pronta anche a denunciare per loro. Noi crediamo che sul tema della sicurezza sul lavoro, sul tema del ruolo dell'RSU, dell'RLS rappresentante alla sicurezza dei lavoratori, abbiamo molto da fare e dobbiamo capitalizzare questo confronto con i lavoratori, con i delegati. Siamo venuti a Brescia proprio a fronte degli ultimi e recenti infortuni e quindi volevamo dare un supporto sia sotto l'aspetto di Will come sindacato ma anche sotto l'aspetto dei professionisti che fanno parte della Will, proprio per dare aiuto a tutte quelle persone che si rivolgono sia ai nostri patronati che si rivolgono indirettamente anche ai nostri delegati. E dai delegati che scopriamo la verità, la verità sul precariato, la verità sulle mancate misure di sicurezza, la verità sul proprio ruolo che spesso in alcune aziende non viene fatto applicare o comunque non viene preso in considerazione. Già, la verità. Dai racconti emergono storie quotidiane di grande difficoltà nel tutelare se stessi e gli altri sul lavoro. Anche la semplice segnalazione di un possibile pericolo per la salute da parte dei responsabili per la sicurezza può diventare motivo di tensione con i dirigenti. Le segnalazioni non sempre vengono viste di buon viso, diciamo, perché fondamentalmente tante segnalazioni possono creare un problema, quindi anche chi le fa viene visto come un problema. Dobbiamo essere convinti di quello che facciamo e non dobbiamo avere paura. Il medico gli dà l'infortunio perché gli dà l'infortunio e l'azienda lo licenzia. L'azienda l'ha licenziato. Dove è successo l'incidente? Io ho segnalato parecchie volte che lì c'era un problema perché io ovviamente riporto quelle che sono le segnalazioni dei miei colleghi. Lì c'erano già stati dei problemi, degli incidenti un po' meno gravi, però c'erano delle avvisaglie. Io mi aspettavo che da parte della TS ci fosse un pochettino più di attenzione rispetto al ruolo che sto rivestendo lì dentro. Venire comunque preso di mira, spostato di reparto o anche peggio, a volte licenziato con scuse banali, secondo me è un duro colpo alla sicurezza e al modo di vivere in azienda. Io come RLS pensavo che venivo consultato, che quantomeno venissi chiesto un parere di quello che era successo, invece assolutamente non c'è stata nessuna intervista da parte mia. Sono stato io che poi ho cercato e sono riuscito a contattare la TS per farmi spiegare un po' quello che stava succedendo. E poi il tema dei corsi per la prevenzione infortuni. Sono importantissimi, ma a volte c'è un utilizzo discutibile. Cioè la formazione non è solo quella fatta da fondo impresa, quindi finanziata in parte dagli stessi lavoratori e dall'impresa. Viene visto un po' una cosa, fatemi dire, viene buttata troppo sul livello economico anche la sicurezza che non dovrebbe essere. La giornata di oggi è stata molto importante, abbiamo tratto molti spunti e soprattutto abbiamo illustrato a quelli che sono i delegati, gli iscritti e comunque gli operatori del settore cosa possono effettivamente fare sia sotto l'aspetto preventivo, ma soprattutto sotto l'aspetto di tutela post-infortunio malattia professionale. Così l'Assemblea dei Delegati a Brescia ha dimostrato come il confronto diretto con i delegati è un momento chiave che non a caso verrà replicato nelle prossime settimane in tante province della Lombardia. Sempre di più incontri con i lavoratori e anche assemblee, perché se noi riusciamo a garantire questa attenzione sui temi che la Lombardia sta portando avanti, noi vogliamo costruire un paese migliore. Per costruire un paese migliore lo dobbiamo fare con i lavoratori, tutto si basa sul lavoro. Noi abbiamo voluto trasmettere questo messaggio positivo che dietro ogni infortunio, dietro ogni morte c'è una vita umana, c'è una persona, c'è un genitore, c'è un figlio e che loro non sono soli, siamo pronti a fare la nostra parte. Questi delegati rientreranno nella propria azienda dopo questa assemblea, parleranno con i colleghi, diranno che c'è un'attenzione sul tema della sicurezza, parleranno della campagna Zero Morti della UIL o della campagna lavoratori fantasma e allora noi come dirigenti sindacali dobbiamo dare tutte le certezze e tutta la sicurezza e assistenza dove necessaria ai nostri lavoratori e ai delegati. Grazie a tutti.